E' tempo di bilanci. Naturalmente anche la Polizia di Stato ha documentato tutti gli interventi attuati nel 2021. Raccontiamo questi numeri insieme al questore, naturalmente della città di Biella. Allora, intanto abbiamo rilevato una sostanziale stabilità dei delitti che però, paragonati al 2020, hanno di totale chiusura, denota quasi una diminuzione. Buongiorno, buongiorno a lei. Sì, sicuramente i dati del 2020 sono direi confortanti, perché rispetto al 2020 chiaramente c'è una sostanziale stabilità nei reati che abbiamo riscontrato. Questo, come diceva lei, a fronte di una riapertura graduale comunque della vita dei cittadini, è un dato sicuramente positivo, quello che sia uguale al 2020. Allora, sono stati documentati i dati, in particolare della città, quindi del capoluogo, sappiamo e lo rileviamo tutte le volte con tutte le forze dell'ordine, un territorio tranquillo, ma la Polizia ha comunque sequestrato diversi, insomma, chilogrammi in totale di sostanza stupefacente. L'azione ovviamente continua. L'azione continua. È ovvio che la sostanza stupefacente che abbiamo sequestrato non è legata solamente allo spaccio su piazza, ma insomma è legata a una serie di attività investigative che stiamo portando avanti con la nostra squadra mobile. È ovvio che comunque Biela, come tutte le città, lo spaccio di sostanza stupefacente è comunque una questione che esiste, che comunque va affrontata e noi lo stiamo facendo. Ecco, un altro dato documentato, l'aumento di minori o comunque ragazzi giovani denunciati per rapine e soprattutto estorsioni. Sì, anche questo forse è l'unico dato che stiamo guardando un po' più da vicino e sicuramente più seriamente. Ovviamente potrebbe essere legato a due anni di difficoltà dei ragazzi che chiaramente in questo 2021 riprendono anche loro a una sorta di vita quasi normale e quindi una serie di episodi, soprattutto di piccole estorsioni, di piccole rapine, insomma le stiamo comunque tenendo sotto controllo. Sono stati due anni di convivenza forzata e forse anche fortunatamente sono aumentate le denunce perché, lo ricordiamo ancora una volta, è importante denunciare in caso di violenze domestiche. È assolutamente importante e il dato delle violenze all'interno delle mura domestiche è in aumento, ma è un aumento del bienio 2020-2021. Questo chiaramente, come diceva, è legato alla permanenza all'interno delle abitazioni, a volte forzata, soprattutto per quello che è riguardato il 2020, che quindi ha portato a delle convivenze molto più difficili. Allora, grazie mille davvero nel ringraziare lei. Naturalmente ringraziamo tutti gli agenti, uomini e donne che ogni giorno lavorano per la sicurezza di tutti noi. Grazie e buon lavoro. Grazie mille a voi.